Impossibile resistere al fritto di Johnny Paranza! A Pisa Lady Grace e il suo staff vi accolgono per farvi gustare gli sfiziosi fritti e i piatti del giorno come il cacciucco e la tagliata di tonno. Ma non solo! Johnny Paranza organizza eventi e cene private. Johnny Paranza Street Food Restaurant. A Pisa, Piazza Gambacorti 13. Consegna gratuita a domicilio.